Mi mancava il risultato, ma tu non lo leggi, che sei un po' vagabondo. Pietro Campoli. Dopo il gueto, aspetta. Dopo il guardare, perché adesso ho da fare riprese, può mandare anche il risultato. C'è della madonna. C'è quello. Guarda, escevano dalla santaia, eravate 16 minuti. Ah, escevano e mandavano a me. E poi mi ha fregato, non è che una palla. Ma dopo, è andato. Dice, ma lì due anni per partire, mi ha fregato una palla, perché la madre di te era buona. E, per dire, ti ho detto, è stuff. Ma dopo, ma io guardai il fotogramma dopo. Il 18. No, no, no. No, io l'ho mandato, l'ho mandato, il fotogramma adesso ne so, perché dopo l'ho già messo anche in Youtube, a 6 pere, siamo andati 17-16 e poi dopo loro hanno fatto partita nella giocata successiva, hanno fatto partita loro dopo? Sì, perché sei in Barcheio, qua l'ho fatto un metro e mezzo. Non hai mai fatto il velo? No, vedi, è giuntato come lo devo andare. Io ero trappato l'altro. Sono qui, ma l'altro, io... No, ma io vorrei stare a vedere un nera là, l'ho intima. No, cioè, vabbè, sono qui in Barcheio, l'ho intima di... La cominciò a dire che ieri tutti da Bruxelles mi pare, perché mi avevano perduto l'accordo, Allora dopo, a parte che l'ha avuto la possibilità, ho mai culato. Comunque, vedete la partita della maniera, non prego, cioè... Ma non è scocci. Non so, vabbè, ma infatti... A me dispiace solo di non giocare perché mi piace la terra. Poi è un bel campo, Zattaglia. Ha le calate come qui, però si gioca bene, cioè... Io, guarda, io preferisco questi giochi qui. C'è più fantasia, c'è, capito? Dietri e tutti... E poi anche quelli in sintetico... Gli ha del calè di necquigalai qui, non è che... C'è più altra, c'è più altra, c'è più altra, c'è più altra... C'è più altra, c'è più altra... Grazie. Grazie.